Entrati in campo per la gara di recupero del campionato regionale categoria Juniores FC Treville Virtus Castelfrentano categoria Juniores La Virtus Castelfrentano è con la divisa rosa-nero, mentre con la divisa bianca pantaloncini e calzettoni neri e i Treville, pubblico delle grandi occasioni, direttore di gara della sezione AIA di Lanciano Ciao Giovenotti! Bocca al lupo! Bocca al lupo Gerro! 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 Damene una, damene una! Arriba! Mi vado a portare la borra!